amici bentornati in questo nuovissimo podcast in cui parleremo dello swatting questo fenomeno che sta prendendo sempre più piede negli stati uniti che consiste appunto nel chiamare a casa di un di uno streamer la swat quindi gli agenti speciali denunciando un omicidio da parte appunto dello streamer del giocatore che in quel momento è in live ma prima di parlare di questo fenomeno vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube schiacciare sulla campanellina per non perdervi neanche un nuovo video e mi raccomando lasciateci anche un bel mi piace ma torniamo appunto a parlare di questo fenomeno dello swatting che consiste appunto nel chiamare nel denunciare un fatto veramente grave tipo un omicidio a casa di uno streamer quindi di questa persona che sta facendo appunto una live su twitch per esempio no che sta giocando a qualche videogioco e appunto i fan o gli haters potremmo dire così per fare uno scherzo chiamano appunto e denunciano questo fatto veramente grave l'ultima vittima è stato proprio il recentissimo sedicenne campione del campionato mondiale di fortnite che appunto ha ricevuto questa sorpresa da parte dello swat quindi dal corpo speciale dell'esercito degli stati uniti d'america appunto ha ricevuto la loro visita a casa con fucili e pistole carichi spiegate proprio pronti ad arrestarlo questo fenomeno in america si sta diffondendo sempre di più creando veramente tantissimo disagio pensate che un altro streamer appunto è morto a causa di questo fenomeno dello swatting tanto che appunto questi militari sono entrati nella sua cameretta comunque nella stanza in cui stava appunto facendo questa live mentre giocava al computer e ha fatto un movimento che per appunto i militari è stato un gesto ambiguo e gli hanno sparato così che appunto questo giovane ragazzo appunto è morto sotto i colpi di armi da fuoco il responsabile poi ovviamente si è dichiarato colpevole e appunto è stato processato e si è guadagnato 20 anni di carcere negli stati uniti infatti questo fenomeno è anche perseguibile per legge anche a livello penale si rischiano appunto grosse pene anche di 20 anni appunto come già detto questo fenomeno è sempre più un problema e un pericolo appunto soprattutto per quelli che lo ricevano perché appunto può essere spaventoso e si può rischiare veramente di perdere la vita per uno scherzo alla fine comunque io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube commentate sotto su cosa ne pensate di questo swatting e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale ancora una volta schiacciate sulla campanellina per non perdervi neanche un video e mi raccomando lasciateci un bel mi piace noi ci risentiamo in un prossimo podcast